Primo appuntamento dopo il lancio di ieri per la rubrica coronavirus aiuti e incentivi per la ripresa economica. Come detto nel video di lancio insieme alla redazione del quotidiano online www.finanziamentinubs.it che è quotidiano online gratuito specializzato negli incentivi e le geovolazioni per le imprese abbiamo dato vita a questa rubrica per cercare di aiutare tutte le imprese professionisti in un momento estremamente delicato per il nostro paese. Il nostro compito il nostro tentativo sarà quello di poter analizzare per voi e con voi quelle che saranno le linee contenute all'interno del decreto cura italia decreto che come tutti sapete siamo in attesa che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale e dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio della giornata odierna. Tante sono le iniziative che sono previste in questo decreto tanto si è già detto l'abbiamo anche già anticipato volevo soltanto oggi iniziare a toccare qualche elemento così in maniera molto spot fermo restando che poi l'obiettivo di queste piccole trasmissioni sarà quello di approfondire argomento per argomento quelle che saranno anche le procedure da seguire per poter utilizzare al meglio quanto previsto nel decreto. Come sapete tutti il decreto ha stanziato 25 miliardi tra le ultime novità che sono state anche inserite nel corso della riunione ultima del consiglio dei ministri rispetto a quanto già trapelava da giorni c'è stato ovviamente ci sono state alcuni degli aspetti molto importanti sicuramente tra questo c'è un stop un fermare le ritenute da conto per le società e per i professionisti che abbiano ricavi o compensi comunque al di sotto del tetto dei 400 mila euro ed ancora in totale la dote per il lavoro nel suo insieme ammonta a 10 miliardi di euro quindi destinati al sostegno dell'occupazione dei lavoratori e anche del reddito. C'è un'altra cosa particolare nuova inserita poi l'analizzeremo anche nello specifico durante le prossime trasmissioni è la famosa indennità di sede cioè che cosa si prevede arriva un premio per i lavoratori dipendenti che sarà di 100 euro da rapportare ovviamente al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo quindi mese in cui tutti si è o quasi tutti si è rimasti nelle proprie abitazioni perché questa misura perché questa misura ha l'obiettivo di incentivare la presenza in azienda nei giorni dell'emergenza sappiamo benissimo che certe aziende devono per forza continuare ad andare avanti anche per garantire sostentamento e beni primari ed essenziali per tutti noi. Altro aspetto importante è anche quello del fisco il fisco che prevede lo stop ai pagamenti fino al mese di maggio per trasporto merci e anche per altre filiere c'è la sospensione quindi lunga per 16 filiere questo è un aspetto molto importante perché si sono anche allungate e la lista delle filiere più colpite dall'emergenza sanitaria per le quali scatta la sospensione che ricordiamo è fino al 31 maggio quindi sospensione dei pagamenti di ritenute fino al 31 di maggio di tutte le ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e anche dell'iva di marzo. Il ministro Gualtieri nella giornata del 15 della giornata proprio di ieri ha ribadito che alle 15 filiere che erano già indicate all'interno dell'articolo 58 del decreto di marzo si aggiunge anche quella importantissima e fondamentale per non paralizzare del tutto il nostro paese ovvero il trasporto merci. Per queste filiere che spaziano dal turismo alla ristorazione allo sport alla cultura si veda c'è una sospensione dei versamenti e per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro che è previsto invece per le imprese per gli autonomi per i professionisti di altri settori. Altro aspetto le filiere le andremo a vedere in seguito, altro aspetto degno di menzione è quello del fondo di garanzia, il fondo di garanzia passa da un miliardo di euro come dotazione a un miliardo e due, questo va a discapito però delle risorse per il Made in Italy ed ancora molto importante il fondo di promozione come dicevamo del Made in Italy sarà soltanto di 150 milioni di euro contrariamente a quanto era previsto dal ministro Di Maio che parlava di un'operazione da 700 milioni di euro ed ancora altri aspetti importanti sono quelli degli accertamenti su cui c'è anche molto da dire e ci sarà molto da dire durante le prossime trasmissioni perché si danno due anni di più al fisco per la lotta all'evasione quindi è una proroga dei termini di accertamento biennale a favore del fisco per il periodo d'imposta 2015. Questo è un qualcosa di molto particolare anche perché ci si chiede perché questa norma se nel decreto legge non c'è alcuna sospensione dei termini di adempimenti e versamenti relativi al 2015. Il governo ha fatto riferimento a un decreto legislativo il 159 del 2015 che provvedeva proprio di poter sospendere i termini per eventi eccezionali ed ancora velocemente di cosa parleremo? Parleremo di tantissimi altri aspetti, di sospensioni e altro ma soprattutto cercheremo da partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di poter capire in quale modo e con quali strumenti ognuno di noi, ogni imprenditore, ogni impresa, ogni libero professionista possa mettersi in sicurezza per poter far ripartire la propria economia facendo così farà ripartire l'economia del nostro paese.